Guardo questi avvolgitori di cavi, vuoti, sembrano le ruote dei carri che usavano gli antichi, così viaggiavano. Adesso invece si viaggia con quei locomotori potenti, forti, capaci di andare a una velocità esagerata in confronto a prima. Questa mia breve osservazione vuol solo dimostrare la strada che è stata fatta nei secoli per arrivare dove siamo arrivati qua e capire ciò che sto raccontando, dicendo perché l'uomo ora è più evoluto, non viaggia più su ruote di legno, ma su locomotori d'acciaio. Bene, il sapere dell'anima, dell'essere, della vita, oltre a questa significa aver fatto un passo avanti, grandissimo. Ora l'uomo non ha più scuse per non diventare un essere umano evolvendosi, per fare del mondo un paradiso dove si possa vivere degnamente e amare continuamente.